Un caro saluto anche a tutti coloro che ci seguono in diretta su Facebook, da Andrea De Angelis, da Stefania Ferretti, la demografia questa sconosciuta è il tema di oggi, perché è una parola che risuona sempre più spesso, un certo Piero Angela disse a chi gli pose questa domanda alla fine degli anni 90, quale sarà il tema del ventunesimo secolo? Lui rispose senza pensarci un attimo, la questione demografica, ma conosciamo bene la questione demografica e siamo consapevoli del ruolo che ciascuno di noi e ciascun nucleo familiare ha in tale ambito? Forse sì, forse no, proveremo a capirlo anche con il nostro ospite, una prima volta qui a Radio Vaticana con voi, sono molto contento di averti in studio, Adriano Bordignon che è Presidente Nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi Adriano, insomma questa demografia, questa scienza la conosciamo, la conosciamo poco o le diamo un peso non ancora adeguato? La conosciamo e la conosciamo ancora troppo poco però, io direi che demografia e statistica sono degli elementi necessari per chi si occupa di governare i processi. In Italia da alcuni anni c'è un festival nazionale della statistica che cerca di aiutare chi governa i processi economici, amministrativi, politici ad avere strumenti per fare le scelte, perché troppo spesso facciamo le scelte di pancia e di istinto e non teniamo conto degli elementi essenziali. La demografia in effetti ci segnala che dobbiamo tenere conto di alcune dinamiche che troppo spesso abbiamo dato per scontate. Gli allarmi attorno alla demografia partono da molto tempo, Piero Angela ne è un testimone ma il già Presidente di Istat Giancarlo Blangiardo è più di vent'anni che sottolinea questo. E un vecchio demografo diceva una cosa interessante, la demografia si vendica di chi la dimentica e questo è ciò che sta succedendo in Italia dove per la prima volta siamo scesi sotto i 380 mila nati e siamo nel punto peggiore della storia dell'Italia da questo punto di vista. E non è solo una questione economica Stefania perché se le due cose fossero correlate in maniera, lo sono in parte, ma in maniera totalmente diretta il record negativo storico dovrebbe dirci che l'Italia sta attraversando il periodo economico peggiore e non è così. Dunque cos'altro accade? La questione è ben posta nel senso che la famiglia non è una statuina, non è una foto, è un organismo, è un organismo che vive in una società e vive in osmosi con questa società. Si nutre, concorre alle dinamiche di benessere della società, ma noi vediamo il tasso di natalità italiano, che peraltro vive una dinamica che molti altri paesi europei e sviluppati stanno vivendo, come una cartina di tornasole di un malessere delle famiglie che è fatto di diverse dinamiche, di diversi fatti. Certamente ci sono le questioni economiche perché fare un figlio, metterlo al mondo, farlo crescere, portarlo ai 18, ai 20 anni, ai 24 anni, all'età dell'autonomia, è molto oneroso in Italia rispetto ad altri paesi, ma c'è tutta una disistima verso le dinamiche familiari, si è sempre data per scontata la famiglia mai rafforzandola, non si è lavorato sulla qualità e la tenuta delle relazioni familiari, non si è mai valorizzata la stima del compito sociale verso i genitori che generano, educano e creano le nuove generazioni, i nuovi cittadini. Ecco, oggi alcuni malesseri che vediamo, questo della denatalità, la scarsissima affluenza alle urne, ci raccontano di un paese fatto di famiglie e di persone che vivono con difficoltà e forse manca un elemento importante, che non è quello economico, ma la prospettiva della speranza. Anche proprio concetti, diciamo, mancano i cosiddetti valori, la cosa che colpisce è che in passato le famiglie avevano magari meno disponibilità economica e facevano più figli. Sì, è così, noi abbiamo meno nati ora che durante la prima guerra mondiale, quando c'era la guerra, c'era la carestia, c'era la spagnola e gli uomini la maggior parte erano al fronte, quindi capiamoci di cosa si sta parlando. Gli aspetti economici sono essenziali, però entrano altri aspetti, per esempio una sorta di individualismo, una dinamica di procrastinazione delle scelte, di responsabilità, condizioni nei quali i giovani, per esempio, diventano autonomi e responsabili molto tardi rispetto al passato, penso ai miei genitori o ai miei nonni, rispetto ai miei figli, insomma la vita è completamente cambiata. Ecco, sta cambiando tutto, la questione è non guardare con uno sguardo retrotopico il passato, ma cercare di trovare oggi i segni e le motivazioni migliori per raccontare alle famiglie che vale la pena mettere al mondo un figlio. Non è una scelta economica, ma è una scelta di bellezza, di impegno, di senso della vita. Ecco, questo è uno degli elementi che possono essere utili per un rilancio. Saluto Maria Bruna, Rosa, Ivona, Salvatore, Anna Maria dice di bambini non ne nascono mai abbastanza in questo secolo, insomma dice molto in una frase, e poi ancora perché al G7 non si parla anche di questo, ci chiede Luigi e Elisabetta ci ringrazia per questo spazio. Tante ascoltatrici, la questione di genere anche Adriano, il Papa l'ha detto chiaro, una donna non dovrebbe essere posta al bivio, lavoro o figlio. Accade? Anche qui ci si rende conto della priorità del tema o lo si lascia sempre in secondo piano? Allora, questo è un altro aspetto molto importante. Noi viviamo dentro alcuni flussi. Un flusso che da anni continua è quello della emancipazione femminile, questa è una dinamica sacrosanta e importante che appunto ridona alle donne un ruolo nella società. Dentro questo contesto bisogna sempre trovare un equilibrio, da un lato ricottornando a valorizzare l'esperienza della maternità e dall'altro lato cercando di evitare una diade di scontro tra i percorsi professionali e lavorativi e i percorsi di orientamento alla natalità. Perché il vero problema oggi nasce proprio attorno a questo. La questione femminile ne è la testimonianza. Parliamo tanto di libertà ma un grandissimo numero di donne sono ancora costrette a dover scegliere tra vita professionale e vita lavorativa. O out-out in alcuni casi o procrastinazioni nel tempo, che vuol dire rimandare le scelte di natalisti, che vuol dire anche a volte correre il rischio poi di non arrivare mai a avere un figlio. E troppo spesso, per esempio, anche per dinamiche retributive, per dinamiche organizzative, se ci sono dei problemi familiari, se c'è una malattia, se c'è un anziano, se c'è un bisogno di cura, sia per motivi culturali che organizzativi, molto spesso ancora oggi ricade tutto sulle donne. Ecco, quel tema della condivisione, della conciliazione, della valorizzazione del lavoro femminile con la giusta retribuzione, la giusta sicurezza, la giusta valorizzazione, vanno ricomposti in un quadro di valore della vita che comprende tutto quanto. Anche perché porre le donne davanti al bivio è una forma di violenza. Si parla giustamente di violenza contro le donne, ma anche dire devi scegliere tra essere madre o essere una professionista quando la nostra Costituzione prevede tutt'altro. Ma del resto il Papa questo tema l'ha riproposto molte volte. Stefania? Sì, no, pensavo forum delle associazioni delle famiglie. In questa associazione che risposte date? Che soluzioni possono esserci? Beh, il forum delle associazioni familiari è una realtà straordinaria che ormai ha 30 anni. È, per esempio, una grandissima esperienza di unità in Italia dove invece lavoriamo molto spesso sulle polarizzazioni e sugli scontri. Cosa è successo con il forum? Oltre 50 associazioni con specifiche passioni, competenze, dinamiche e anche dimensioni hanno scelto di mettersi assieme perché avevano trovato un tratto unificante. Chi si occupava di lavoro, chi di ambiente, chi di anziani, disabilità, scuola, via discorrendo. Anche movimenti spirituali hanno detto ma c'è non un settore ma una dimensione che ci attraversa tutti è la famiglia. Allora perché non lavoriamo su questo habitat, su questo ecosistema che non è il problema del paese ma può essere la risorsa? Se noi valorizziamo, teniamo le famiglie sane, vitali, generative, in senso anche civico, probabilmente lavoriamo per tutti. Allora è un'esperienza di unità dove si cerca in modo sussidiario, cioè non sostituendosi alle associazioni, di arrivare a dare delle risposte al sistema famiglia. Allora il tema su quale ci impegniamo con appunto le oltre 50 macro associazioni che fanno parte, i 20 forum regionali, è quello di creare politiche territoriali in relazione con le pubbliche amministrazioni soprattutto, ma anche con le forze produttive, con le associazioni di categoria, con i sindacati, con la scuola, dei contesti in cui possa essere ancora bello nascere, crescere, mettere su famiglia, diventare adulti, invecchiare in questo nostro paese. Questo passa da politiche fiscali per la famiglia, al famoso assegno unico, politiche per la scuola, politiche per i giovani, conciliazione famiglia e lavoro e una miriade di questioni, perché dobbiamo dire una cosa, la famiglia torna a due fuochi, il primo fuoco è che non c'è una politica neutra per la famiglia, parliamo di politiche energetiche, c'entra la famiglia, parliamo di viabilità, c'entra la famiglia, parliamo del pezzo d'asfalto davanti alle case, c'entra la famiglia, ma poi c'è un detto dalle mie parti in Veneto che dice che il cane di tanti padroni è morto di fame. Allora la famiglia è sempre data per scontata e nessuno ha mai pensato di capacitarla e sostenerla e sta vivendo un momento di grande complessità sulla natalità, ma sull'educazione, sulla coesione interna, sulla relazione tra le generazioni che la compongono. Ecco, oggi dobbiamo mettere queste risorse, queste attenzioni in chiave di investimento e forse questa è la chiave per rilanciare, noi ci crediamo fortemente. Hai parlato anche di persone con disabilità, tutta la questione dell'assistenza che a volte avviene nel silenzio, all'interno delle case, perché non può essere altrimenti, è un tema talmente enorme di cui bisognerebbe parlarne per ore. Però lasciamoci con una promessa Adriano, che torneremo a parlare di questi temi, visto che rappresenti una miriade, come dicevi, di realtà e magari focalizzandoci di volta in volta su un aspetto specifico, perché ciascuno merita il giusto tempo, altrimenti rischiamo di parlare, come dicevi tu, come era la, ripetiamola, quella del cane che è significativo. Il cane di molti padroni è morto di fame. Ecco, allora un tema che ha molte sfaccettature non può essere legato ad una sola trasmissione, va bene? Certo, accolgo questa vostra proposta con grande soddisfazione e certamente ci vedremo presto. Grazie Adriano Bordignon, presidente nazionale del forum delle associazioni familiari, a voi che ci avete seguito in video, grazie a Gustavo Messina, tecnico del suono, a del nostro Daniele Giorgi, che ha curato la parte video. Tra due minuti torniamo in radio, perché avremo un altro ospite particolare, parleremo di musica e giustizia.